Una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale portata a termine dalla Guardia di Finanza di Chieti. Dal 2006 al 2013 il gruppo criminale ha occultato al fisco 295 milioni di euro. 59 milioni invece sono stati sottratti alla tassazione IVA. 42 il numero di persone denunciate con l'aggravante del traffico internazionale. Il danno forte che ha ricevuto l'erario, quindi il danno erariale vero e proprio, è di 295 milioni di euro. Quindi molto consistente. Tenete conto che questi hanno operato praticamente indisturbati per circa sei anni. Una piramide criminale suddivisa in piani a capo della quale compaiono sei persone. Fra la società italiana scorretta e questi operatori economici collegati con l'operatore economico italiano scorretto veniva interposta un'altra società, la cosiddetta Cartiera, che aveva l'unica funzione di emettere semplicemente una fattura perché il prodotto andasse alla società inizialmente operante in Italia, la quale così si permetteva di detrarre l'IVA che la società Cartiera non aveva per prima versato. Ecco il sistema di frode particolare. A capo di questa società Cartiera hanno tutti quanti messi i soggetti, chiaramente prestanome e nullatenenti. Un meccanismo di frode basato sulla compravendita di prodotti elettronici provenienti da Austria, Polonia e Slovacchia, che avrebbe evitato tassazioni e dunque immesse nel mercato italiano con prezzi molto al di sotto della media creando un danno ingente a tutti i commercianti del settore. Il danno grave qual è? Il danno fiscale perché lo Stato non ha incassato quello che doveva incassare. Il danno economico perché hanno alterato in questo segmento particolare del mercato creando appunto uno squilibrio nel mercato stesso, per cui un danno e creando una concorrenza sleale all'interno del mercato stesso. E' un danno sociale perché andando a danneggiare quegli operatori economici seri, e viva Dio ce ne sono e non sono pochi, si fanno perdere posti di lavoro alle imprese. Alle accuse si aggiunge anche quella di reciclaggio il denaro con il quale sarebbero stati acquistati due immobili. E anche delle autovetture che permettevano a questi personaggi di potersi muovere a loro piacimento sul territorio nazionale. Un immobile che abbiamo individuato, in particolare una villa ripatiatina e un altro appartamento su Pescara in particolare. A tal proposito è stato chiesto il sequestro dei beni immobili, alcuni dei quali intestati a dei prestanome per evitare azioni di confisca.